Questo paese ha bisogno di una bella politica, di una politica alta, di una politica che pensi al futuro e che pensi davvero a come le speranze possono essere sostenute da progetti concreti. Qui si respira di nuovo questo clima, era il clima del Lingotto del 2007, ricordo l'Icare, è il clima che ritrovo anche nel Lingotto di oggi, del 2017. Come ha detto anche Sergio Chiamparino, quando non sei d'accordo su qualcosa, se vogliamo costruire un grande partito e di grandi partite abbiamo bisogno, stai dentro e combatti perché le tue idee possano avere più spazio. Andarsene è una sconfitta, è una sconfitta in primis perché decide di andarsene, però io credo che ci dobbiamo rimettere in cammino. La scelta è stata fatta, a me dispiaciuta, però a questo punto noi abbiamo una responsabilità grande, non solo per i nostri elettori, non solo per chi crede nel PD, ma anche per l'Italia e quindi andiamo avanti e costruiamo, io spero, un campo largo di proposte nelle quali poi anche chi oggi dice di non riconoscersi più in questo percorso comune possa trovare invece un futuro degli elementi di condivisione.